Siccome YouTube toglierà molto presto il tab discussioni del canale, ho deciso di registrare le discussioni che ci sono state in questi ultimi otto anni, così da tenerle come ricordo. Per ricordo di questo canale, per ricordo di tutti quelli che hanno commentato all'interno del canale in questi anni. Iniziamo col primo commento del canale di Franco, bentornato Shido. Poi ci sono dei commenti di Alex500, Shido è giusto di tornare di nuovo? Si riferiscono al fatto che il mio primo canale fu stato bandito da YouTube purtroppo, canale creato nel 2006. Mamma mia, quanti ricordi. Speriamo bene l'importanza e che non metti la fox da quello che ho capito. Si dai, risorgi dalle cineri e diventi più forte ora. Come le Fenici. Poi c'è Andy Chris, bentornato. Sì, bella la Fenice è perfetta. Bentornata Shido. Oh, bentornato. Forse avrei sbagliato a scrivere. Welcome back. Che bello, ancora qui. Ma che cosa è successo? Comunque invito prontamente accettato. Ah sì, perché prima c'era anche l'invito per richiedere l'amicizia si poteva fare su YouTube. Figurati, mi dispiaceva perdere un'amicizia per un canale cancellato. Infatti qui parla dell'amicizia. Stranamente i miei messaggi sono rimasti cancellati. Alcuni perché io rispondevo. Ma evidente perché si vede che rispondevo. Però non so perché i miei messaggi non ci sono. Ma se pubblichi cose private. È ovvio. Ok. Vabbè, questo non ci interessa. Le canzoni che utilizzavo. Ok. Iscritto ricambia. Totalmente inutile. Allora. Ciao Shido, imparò che mi dimentichi di te? Tranquillo, è impossibile. Va bene. Spower Director. Prima utilizzavo Power Director. Sì. Come butta Shido? Iscritto. Ciao Shido, la 6 è l'ultima. Dovrò fare Angelo. Speriamo di non farlo morire. Ok. Va bene. E se fossero... Ah ok, Frank mi ricordavo che cantava, studiava canto, eccetera, eccetera. Note facili, si sta parlando di sì, non è che potresti chiedermi un dubbio, bla 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 bla. Va bene. Quanti ricordi? Come è andato il concerto? Sì, è vero, i miei concerti, mamma mia. E vabbè. Adesso non ne faccio più ormai. Questi sono tutti i messaggi di tanto tempo fa. Iscritto. Quando è il tuo prossimo Harry Potter Fan di Musical? Sono ansioso di vederne un altro. Otto anni fa. E ciao, come va? Tutto ok? Perché non provi a fare un video di HP con la sigla di Rossano di Friends? Se non sbaglio l'avevo fatto. Sì. Forte il tuo canale. Iscritto ricambi per favore? Ciao Shido, come va? Poi ciao, mi sono iscritto ricambi. Ciao, bello il nuovo canale. Come mai l'hai cambiato su forum? Non l'hai detto. Non mi ricordo a quale forum ti riferisci, purtroppo. Perché ne ho partecipato a tanti di forum. E ciao Shido. Come va? Ho pubblicato un video di Stupid Lara. Oh mio Dio, mi ricordo i video di Stupid Lara. Li vedevo sempre. Va bene. Tanti tanti commenti. Anche di questo andrà alla porta. Un altro commento di Alessandra. Che mi dice che sono bellissimi i video di Harry Potter. Mr. Ariel. Bel canale. Sono bellissime le tue sigle di Harry Potter. Va bene. Ehi Shido, il tuo ultimo video è bellissimo. Se ho capito, fischi per fiaschi. Ok. Poi, Armor of the World Fire. Grazie per l'invito. Ehi Shido, come va? Tutto ok? Finalmente è finito gli esami. Wow. Gli esami. Grazie per il tuo invito. Mi sono iscritto. Il tuo canale è il massimo. Forse il meglio di YouTube. Wow. Oh, grazie Rosy. Grazie per aver citato l'invito. Bel canale e complimenti. Ah, ecco. Alcuni miei messaggi sono arrivati qui, verso l'alto. Non so perché. Nessuno è tanto bravo come fare i video. Shido, grazie di tutto. Grazie a tutti. Veramente, sì. Sei migliore in assoluto. Veramente grazie a tutti quelli che hanno commentato. Sono bellissime le intro. Sei davvero un mito. Guarda, non sai come sono stato senza i tuoi video. Mi mancavano troppo. Shido the best. Hai fatto un lavorone. Ha rifatto anche la grafica. Mannaggia all'H. Ok. Ciao, i tuoi video mi sono piaciuti tantissimo. Mi sono un pochino impicciata. Ho visto che sono di grafica. Per caso sei di Roma? Perché se sì, si può darsi che ci siamo incontrati. Mi dispiace, proprio no. Ehi, ciao. Notato che segui le parodie di Ale Marchionni. Che adesso si chiama Alessandra. Che a me piace non molto. Blah, blah, blah. Anche lui faceva parodie di Tomb Raider. Come va tutto ok? Le scene italiate dei film di Harry Potter vengono dai DVD. Il prossimo video che lo caricherò. Blah, blah, blah. Qui si parla di Stupid Lara. Iscritta se vuoi ricambio. Ok. Tanti iscritti ricambio. Inutili. Shido, ma che fino a fare i tuoi favolosi video? Da un po' che non carichi nulla. Eh. E come va a carichervi di Ugly Mirtle. Ok. Vediamo un po'. Caricato i stessi episodi di Full Lara. C'è Shido come va tutto bene. Ok. Bella pagina, belli anche i doppiaggi. Non era ancora caricato del tutto. Ecco perché non l'ho visto. Grazie mille. Buon Halloween Shido. Perfetto. Poi c'è quest'altra persona. Ciao, io ho impostato il mio canale su YouTube, su Director, bla bla bla. Ah, ok. Allora no. Non sono cose che non riguardano il mio canale. Ciao, sono un'omora 95. Purtroppo YouTube mi ha chiuso il vecchio canale. Ah, era successo anche a lui, mi ricordo. E faceva video di Kingdom Hearts. Va bene. Grazie per l'iscrizione. E ciao Shido, come va? Bene, grazie. Bel canale. Ciao, volevo dirti che mi sono fatto una scorpacciata dei tuoi video musicali su Harry Potter. E mi sono divertita tantissimo. Ti faccio i complimenti per la scelta delle canzoni, ma soprattutto per la scelta delle immagini e per il montaggio. Si vede che ci sono delle BTS, il ragazzo che ci sa fare. Oh, grazie mille Elena Vignoli. Io ti stimo. Fai dei video stupendi. Mi piacciono un sacco. No, mi suacco sempre in due dalle risate. Mi spacco, forse. Vado a scrivere in due dalle risate. Oggi HP7, raga? Oh, wow. Otto anni fa. Wow. Non ci credo. Vediamo un po'. Ciao Shido. La data di uscita del prossimo video sarà tra pochi giorni. Ho caricato un nuovo Fullara. Mi sono iscritto semplicemente a stupendi i tuoi video. Grazie mille. Golden Sun, l'alba oscura. Lo consiglio ovviamente a tutti. È bellissimo. Wow, ero uscito otto anni fa. Stare dei tuoi video. Comunque hai scritto ricambi? Poi, grazie per l'invito. Bel canale. Ok. Va bene. Tanti altri messaggi. È fortissimo il tuo video di Voldemort che guarda. Balla, forse. Waka waka. Erich che guarda scioccato. Già. Ok. Mi sono iscritto. Bla bla bla. Auguri di buone feste. Buon Natale e felice anno nuovo. Richieste di amicizia. Richieste di amicizia. Tanti auguri. Prima veramente la community era molto più attiva di adesso. Ok. Vediamo un po' cos'altro c'è di interessante. Persone che mi chiedevano che programmi utilizzavo, per esempio. Bel video, Shidoliner. Straridere quello di Python Zero. Ok. Questo è in inglese. I tuoi video sono fantastici. Come li fai a fare così bene? Eh, vabbè. Ah, quando è il prossimo video? Poi. Io paragoni a Dolores Sambra e a Giaoretta Berti. Lol. Viva Shidoliner. Fa un video di Python con la canzone Cercami di Renato Zero. Non so se poi l'ho fatto. Potresti fare un video di Gabe and Joe con la canzone Cinderella di Britney Spears? Grazie in anticipo. Ho già fatto un video di Gabe and Joe, però non era la canzone dei... Un'altra canzone, insomma. Non mi ricordo quale esattamente, però non questa. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Auguri Shido. Bla bla bla. Tanti auguri. Un sacco di auguri. Poi vediamo un po'. Ancora richieste di amicizia. Shido, sei mitico. Seguo sempre i tuoi video. Che dire, sei bravissimo. Ne ho fatto uno su Harry Potter. Volevo sapere cosa ne pensavi, bla bla. Ok. Ok. Vediamo un po' cos'altro c'è. So se non ti rispondo da settimane. Ok. Ciao, sono contenta e ti piace il mio sfondo. Io adoro Neville Paciocchi. I tuoi video sono davvero stupendi come me. Non vedo l'ora di vederne altri. Avrò scritto sicuramente sulla sua bacheca all'epoca. No, non sono di party forum. Mi dispiace. BTR girl. Ok. Ciao Shido, come va? Tutto a posto? Ti imploro, ti plego, ti subito. Puoi fare un video di Harry Potter in cui cantano Anox e Patti Bravo? Ti prego. Ok. Va bene, i tuoi video sono fantastici. Questo mi chiede di fare un video di Big Time Rush, l'opening di Harry Potter oppure di Sorrendon. Purtroppo non li ho fatti più. All'epoca non conoscevo neanche Big Time Rush. Questo mi chiede di fare un tuoi light. No, grazie. Cyberlink Power Director. Mi chiedono che programmi uso. Addirittura tu sei un vero genio, oddio, posso chiederti un autografo? Wow, addirittura. Ok. Big Time Rush, opening Harry Potter. Chissà, chissà. Mai visto che non puoi caricarlo nell'altro canale, puoi caricarlo? Qui l'episodio di Buona Persona Charlie. No. Oh my. Allora. Programmi che uso per creare i video, me l'hanno chiesto praticamente sempre. Waka waka e e, waka waka e e. QMAT 90. Anche io non riesco a dedicarmi molto ai video per colpa del lavoro, poi sto realizzando un video di skate con gli amici miei, spero di riuscire ad aprire il mio canale a più presto. Va bene. L'ultimo HP è stupendo, tra i più belli che abbiano fatto secondo me. Anche se ci sono alcuni errori, vabbè, errori non si, non sono errori più che altri perché è una trasposizione. Come lavoro faccio il grafico in un ufficio stampa? QMAT 90. Mi ricordo di te. Sono depresso perché sono finito le serpe verde, qui è quando è uscito Pottermore. Poi vediamo un po'... Non c'è nient'altro, scusate, mi sono iscritto, ah no, non mi interessa. Shido, sono lalala del forum su Facebook. Con un microscopio account, puoi mettere, bla bla bla. Continua i tuoi video e se la rendi così spacchi, va al foi. Qui parlavo del forum a cui partecipavo. Vabbè. Ok, vediamo un po'. Ragazzi ho creato un canale di backup, ah vabbè sì, ShidoNearth3 però non l'ho praticamente più usato. Iscritto ricambi, vieni a trovarci se vuoi. Grazie mille dell'invito, i tuoi video sono sempre fantastici. Bellissimi video e il canale è stupendo, grazie. Ok, lo amo. No, no, tranquillo. Metti il mio canale tra gli amici? Ok, un fottuto genio. Grazie ShidoQuardileone, come sempre non mi deludi. Ciao, voglio farti un saluto complimenti per i video, sei davvero mitico. Se non so, vorrei farti una domanda. Fare Harry Potter fan di Music Hall 7? Purtroppo non l'ho fatto più. Il 6 è stato l'ultimo. Va bene. Potresti mettere il mio canale tra i canali amici? Questo è scritto in russo, Harry Potter Forever però. I tuoi video sono fantastici. Ciao Shido, ho caricato la parte 4, ok? Ricordi le mie parodie di Harry Potter contro Trollite? Ad Vampire Slayers, mi sa che mi ricordo di te. Va bene. ShidoNearth mito. Sono iscritto al tuo canale. Come riesci a fare video in cui mischi le sigle? Ok. Grande canale. Vuoi prendere parte al mio contest video? Di HP Forever Fun. Ciao Shido, come va? Mi hai tolto... No, no. Non è vero. Questa cosa è impossibile. Vabbè, ma erano 6 anni fa. Poi non mi ricordo cosa diavolo è successo quando YouTube ha cambiato grafiche 10 volte. Bel canale, grande grafico. Senti, vorrei una tua opinione. Secondo te è meglio... Vabbè. Oh, finalmente le mie risposte qui sono uscite in maniera corretta. Ciao, sono RCZ50. Scusa il disturbo. Giorno fa per l'ora ho chiuso il mio canale, bla bla bla. Ciao, ti ho aggiunto alle cerchie. Ah, già, prima c'erano le cerchie. Non so se esistono ancora. Ciao, se ti fa piacere visita anche il mio canale, bla bla bla. Ok. Sara Martino. Due anni fa. Siamo passati da 5-4 anni fa, praticamente alla fine. Ti seguo da tantissimi anni, non avevo mai detto che i tuoi video mi piacciono moltissimo. Volevo però chiederti una cosa. Potrei sbagliare, ma ricordo che quando avevi fatto il tuo canale avevi postato un video su Python che si chiamava Schiavo d'amore e che aveva come sottofondo una canzone di Piero Mazzocchetti ed era composta da varie fan art. Il fatto è che ho trovato questo video e non vorrei che qualcuno avesse presso il ricaricato sul suo canale senza accreditarti. Ciao Sara, grazie mille per i complimenti e la segnalazione. Comunque il video non è il mio al 100%. Indubbiamente è stato ispirato o ha speso lo spunto dal mio. Io avevo utilizzato transizioni un po' diverse. La ragazza ha creato il video senza dubbio perché le è piaciute al mio. Quindi mi fa piacere. La parte finale è praticamente identica però lol. Poi l'ho ricaricato comunque il video. Che lingua è? Indovina. Come li hai fatti? Per favore dimmelo. E poi come ultimo messaggio. Ehi ciao, ti ricordi di me? Usi ancora questo canale? E io che ho risposto? Sì, mi ricordo. Come va? Il canale lo sto di tanto in tanto per pubblicare cose che creo quando mi annoio. E qui si chiudono i commenti delle discussioni del canale che verranno eliminate. Purtroppo ormai dal 2019 non ci saranno più. Quindi siccome non volevo perdere i vecchi messaggi mi son detto rileggo i più importanti, faccio un video veloce. Così rimarranno sempre nei ricordi di questo canale. Spero che vi sia piaciuto. Ciao.